Buon sabato a tutti amici di YouTube, TikTok, tifosi, rossoneri e rivali, benvenuti nel mio canale. Si avvicina il derby, purtroppo per motivi personali oggi non sarò presente a San Siro, ma sarò stesso vicino ai ragazzi, seguendo la partita, speriamo in bene. Vi do le probabili formazioni di oggi. Il Milan dovrebbe entrare in campo con Maignan, Calabria-Tomoro, Calulu e Teornandez linea difensiva, Tonali benanser davanti alla difesa, Messias dietro il nostro grandissimo Giroud. Questa la formazione rossonera. Risponde l'Inter, l'Inter dovrebbe rispondere con tre pali Andanovic, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni, 5 a centrocampo, Dunfriens, Barella, Brozovic, Cialanoglu e Darmian e Correa-Lautaro le punte davanti. Queste sembrano le scelte a ora da parte di Pioli e Inzati. Speriamo sia una bella partita, che sia come sempre un bel derby e che riusciamo a fare una prestazione come si deve. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo più tardi e sempre forza vecchio cuore, rosso-nero. Ciao a tutti da Gerry.